Buongiorno, mio nome è Gorelino Roberto, sono un professore italiano di karate, oggi vorrei mostrare il mio dojo, benvenuti! Questi sono i lavori, per le famiglie e per le mie. Questi sono i lavori, per le mie. E questa è la sala di allenamento. Ho spero che avete piaciuto il mio dojo. Sto aspettando per te. Ciao, ciao!